Avvocata Quattrone, l'IP ha una specializzazione che consiglierebbe ai giovani colleghi e perché? Assolutamente sì, prima di tutto perché è un po' una nicchia di settore, quindi del diritto in generale, poi perché oggi i diritti di proprietà intellettuale si intersecano moltissimo con le nuove tecnologie che sono anch'esse molto amate dai giovani, quindi potrebbero unire lo studio di una materia che gli può dare dei grandi sbocchi per il futuro insieme alle loro passioni, quindi già questo penso sia un bel punto. Grazie.